In serie di vittoria importantissima per il Marina di Ragusa in cerca di salvezza sono i tre punti sudati e meritati dai ragazzi di Mister Ultra ieri all'Aldo Campo che ha ospitato la meglio messa a Biancavilla ma a regalare la terza vittoria di campionato al Marina è stato il nuovo arrivato dalla Cireale di Hop subito ambientato e che non ha fallito chiamato a battere un rigore al 37esimo qualche minuto prima dagli 11 metri si è rappresentato proprio il Biancavilla con Aloia ma nulla da fare per il giocatore Etneo che si è praticamente lasciato ipnotizzare dal sempre pronto portiere pellegrino che ha intuito riuscendo a parare a terra il titolo al dischetto bravo sempre il Marina a trincerarsi in difesa lasciando per il resto del match poco spazio agli avversari un Marina di Ragusa adesso a quota 15 punti ancora insufficienti per la zona salvezza ma comunque importanti per il morale dei ragazzi di Mister Ultra chiamati a fronteggiare la prossima settimana la quarta in classifica in Lelicata in eccellenza nulla di fatto per il Ragusa che si presenta a Mascaluccia ma non riesce a giocare a causa dell'inagibilità del campo il parziale distacco di un faro di una delle torri dell'impianto di illuminazione causato dal forte vento ha impedito l'anticipo a sabato della 14esima giornata del girone D la decisione è stata assunta dal sindaco del comune Etneo che insieme ai tecnici ha eseguito un sopralluogo ordinando così l'immediata inagibilità partita quindi Mascaluccia Sampio X Ragusa rinviata a data da destinarsi intanto sempre tra le fila azzurre vige ancora il silenzio stampa almeno fino a domani quando sarà annunciato l'ingresso nei quadri dirigenziali dell'avvocato Francesca Grigorio che subentrerà ad Antonino Monterosso qualche giorno prima a lasciare il Ragusa Calcio era stato anche il direttore sportivo Emanuele Merola sempre in eccellenza perde il Santa Croce 2 a 1 contro il Sant'Agata per il Cinguebleo una vera e propria prova di nervi e di forza perché è costretto a giocare fin dai primi minuti in 9 uomini contro 11 i ragazzi di Mister Lucenti passano anche in vantaggio al decimo con un rigore di leone ma senza riuscire però a contenere il continuo pressing degli ospiti è difficile commentare una gara del genere e mi devo trattenere perché altrimenti vado oltre posso fare solo i complimenti alla mia squadra per come ha interpretato la partita del Sant'Agata non c'è bisogno di parlare perché sappiamo la forza che hanno il resto l'avete visto tutti in campo io penso che quando ci sta una partita così importante bisogna mandare gente importante e purtroppo questo oggi non è successo mi assumo la responsabilità di quello che dico io ho giocato tra i professionisti ho fatto il professionista per tanto tempo non mi era mai successo di vedere una cosa del genere mai mai neanche da quando alleno però purtroppo sono cose che possono capitare la cosa grave è che capita sempre a questa società una società pulita una società di persone per bene che non viene rispettata e quindi questo fa ancora più male in promozione invece è terminata 2 a 1 per il Frigentini la stracittadina modicana giocata ieri allo stadio Pietro Scollo sul campo un modica poco reattivo e scarso di idee che non è riuscito a imporsi regalando così ai rivali una partita semplice che il Frigentini ha vinto con merito i gol degli ex Gabriele Guglietta e Orazio Caccamo hanno punito il rosso-blu che hanno creato poco e fatto ancora meno un match sbloccato al ventiquattresimo del primo tempo con Guglietta che concretizza un'azione corale d'attacco mentre i trigrotti protestavano per un presunto fallo di mano commesso da un giocatore del Frigentini nella ripresa al primo affondo il modica ha pareggiato grazie a un rigore ben battuto da Majorana infine al trentaquattresimo ecco l'Eurogoal che pone la parola fine al match con Caccamo che ha fatto partire un sinistro insaccato alle spalle dell'incolpevole Vindigni implacabile invece la capolista Pozzallo che continua a vincere il 3-2 contro il Floridia ottimo risultato anche per la Virtus Ispica sempre in zona play-off che vince 4-1 contro il fanalino di Coda che limiti San Paolo male invece per le altre due iblei il commesso e l'Atletico Cicli che hanno perso rispettivamente contro il Megara Augusta e l'Armerina